Cosa si può fare di fronte a un veloce tocco? You run, you slide, you have the phone, you take the time! Ma si, Rocco dai mai! You run, you slide, you have the phone, you take the time! Il tuo problema è la voglia pazza, un tutto neodivertimento da GIG!